Ben tornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il centro di bassa pressione piano piano si sposterà verso Occidente. Allontanandosi dall'Italia. Ciò permetterà un graduale miglioramento delle condizioni del tempo a partire dai settori adriatici. Continueranno invece le precipitazioni sul nord-ovest d'Italia, sui settori tirrenici e su gran parte del sud Italia, ove insisteranno ventiforti di scirocco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 21 dicembre. Al mattino precipitazioni diffuse su Basilicata Meridionale, Puglia Ionica e Salento. Sul resto della Puglia avremo nuvolosità diffusa ma con basso rischio di precipitazioni. Nel corso della giornata si verificheranno schiarite sul Foggiano e sui settori adriatici. Insisteranno invece precipitazioni sulla Basilicata più occidentale, con rischio neve sin sui 1700 metri di quota. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in leggero aumento sia nei valori minimi che massimi. Soffieranno venti di scirocco al mattino con graduale rotazione dei quadranti orientali durante la giornata. Per quanto riguarda i mari risulterà mosso l'adriatico, molto mosso invece lo Ionio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.